Ciao Team Bolivieri e benvenuti in questo nuovo video che ormai stanno benissimo l'introduzione Oggi faremo delle domande a Cora che dovrà indovinare su Mary Lou e ogni volta che sbaglia verrà la stonata Iniziamo Qual è il suo colore preferito? Il rosso No, non lo sapevo ancora No, diciamo che rosa fluo Fucsia Fucsia Così è un misto No, perché vanno di moda Il mio piace del polio che ho comprato a pratica No ragazzi, è tutto In realtà, siccome va di moda del fluo Allora mi piace cosa mi piace molto fluo Mi voglio i piaciatori Qual è il suo cantante preferito? Una cosa che si chiama La differenza Tiziana Paglia Oh yes Qual è il suo attore preferito? Non lo sapevo, è anche lei che ci sta presentando Ora mi piace, la pezza ci arriva Ah, questo è un attacco di stiglia Due che si Pazzo Due che si infacciano Che si infacciano, è così Due che si infacciano Ma poi si mandano anche uccidere Ah, Angelina Jolie Oh, bello Bello, bello, bello. Com'era Mr. Smith e Mr. Smith? Fantastico. Cavolo, bello, bello. Anche la mia. Qual è il suo sogno del cassetto? Allora, il suo sogno del cassetto è... Ma che stai facendo? Allora, o lavorare nel mondo dello spettacolo, aia! Lavorare nel mondo dello spettacolo, oppure diventare una poliziotta per aiutare i deboli. Io vorrei studiare criminologia. Bello. La criminologia è il più lavorare nel mondo dello spettacolo. La criminologia è per scoprire chi fa i crimini. È molto curiosa, mentre io mi cagerei su. Qual è il suo cibo preferito? Il cocomero. Qual è il suo animale preferito? Il cane. No. No. Nessuno. No. No. Il serpente. No. È un animale dolcissimo. Ma anche seduciante. La pantera. Brava! Non le sa... Aia! È proprio male! È un sorrino. Serie tv preferita, però non ne guardo tanto. Aspetta. Allora. Intanto il mio animale preferito è anche il cocomero. Infatti a riscotto mi chiamano cocomero. Vabbè. Non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno. Angelina Giulia. Non interessa a nessuno. E invece il film preferito? Qualunque cosa di Cinderella Story. Io amo Cinderella Story. Tutti i film. Anche io. Certo. Vabbè. Certo. Perché vuole dire prima. Qual è il suo dolce preferito? Una cosa che a te non piace. Quindi c'è. Tirami su. Al. Caffè. Anche ho messo dal caffè. Però tirami su Al. Comenta. Cos'è? Come il cuore delle tente. Palla. Al pistacchio! E vedete? Oddio. Sono da Sonic. Allora. Descritto. Sorelle. In tre parole. Brutto. Non è vero. Determinata. Ehm. Fantastica. Eh no. 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 Ricambiamo. Fantastica. Interprendente. Ok. Favolosa. Determinata. E premulosa. Carine. Ehm. Lei preferisce la rap o rap? La trap o rap? Trap! Io ho ancora capito la differenza. In giro non lo so. La risposta è non disponibile. Lei in realtà non se la senta io in trap. Com'è il suo ragazzo ideale? Allora. Qua proprio. No. Perché qua ci vuole proprio qualcuno che ti aiuta. Perché io sono. Sono. Lei complicata. Anche io sono complicata la male ancora di più. Allora. Lei il suo ragazzo deve essere. In primis. Deve avere un bel fisico. Quindi deve essere muscoloso. No. Poi. Seconda cosa. Fammi parlare. Seconda cosa. Caratterialmente deve essere. Un uomo. Determinato. Soprattutto. Che. Gli piace. Viaggiare. E stare nel mondo. Dello spettacolo. Andare a vedere tutte quelle cose strane. E poi. Deve essere curioso. Il suo ragazzo deve essere curioso. Perché lei. E' strastra curioso. Mi piace. E' interessante. E il ragazzo deve essere strastra strastra seduciante. Perché. Gli piace proprio questo ambito qui. Wow. Quante. Brava. Quante lingue sta a parlare? Dai. Ma questa. Italiano. Ok. Ok. Mi savi no? In Inglwarz? Si. 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 Se ha sette. E' un set di grado da. Da. No. E' un italiano. In inglese. Si. Se l'avevo fatto. No. Se lo stai inventando. Se lo stai inventando. Se l'ho studiato le mani. Come si dice? Je mapelle. Mary Lou. e come sai? come si dice? Comunza la bravo e no, so pure in spagnolo come sta? come sta? un po' di francese un po' di spagnolo io raga ho il tedesco purtroppo io so io so l'italiano, l'imilese e il francese un po' di francese e leggermente un po' di spagnolo perchè con tutte le ragazze primi santo e beh giusto, è vero si imparano così una sinistra prima lady che scuola fa? coreutico per tutti quelli che non sa neanche cosa è grande hai sbagliato liceo coreutico mi si può liberizzare scusa comunque è una scuola dove è un liceo in cui si fanno 12 giorni una scuola stupida la pupa torna troppo le stanca anche nel micro non faceva estremante veramente devastante preferirebbe un bacio o un abbraccio? un bacio assolutamente esatto gollo o pantalone? pantalone si pantalone tu ti metti sempre pantalone e attillare sempre attillare però su una introna qual è una cosa che adora? me ok e invece una cosa che non sopporta? di chi? di chi? in generale una cosa che non sopporti? ah quando una persona quando li si accoglono non sopporti non sopporti non sopporti cosa le regale resti per il compleanno? il pacco di pittuio non sopporti non sopporti non sopporti invece ultima domanda se dovessi portare in una città dove andreste? a los angeles in modo tale perchè mi faremo un po' di minuti e mi diventeremo elettrici sii è carina queste ragazze tra i ragazzi era l'ultima domanda speriamo che il video vi sia piaciuto se lo ci sono lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale tantissimi like seguiteli su instagram mi raccomando e noi ci rivediamo con un nuovo video olivieri olivarci olisempre ciao